la presa era così come questa o questa non la finalizzazione addirittura sta finalizzando qui ha chiuso ogni volta che chiude in questo modo incasco dentro di stadi vuole delle tartarughe inizio ad esempio qui quindi faccio questo e comincio a camminare da quella parte vengo sempre con questa mano al posto quindi comincio a togliere la pressione ok prova a finalizzare quindi tolgo la pressione e la metto su di lui sulla sua schiena ok quindi faccio questo mano qui estendo questa gamba e lo faccio questo e lo faccio questo e lo faccio ok